10 15 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 16 15 15 16 16 16 17 17 20 21 6 8 9 14 1 2 3 4 14 5 5 5 5 8 10 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 9 10 10 10 10 10 12 13 Sì, certo, non cambiate. andiamo 3 3 3 4 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 12 6 7 8 7 7 9 7 8 9 10 9 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.